Non ci posso credere, abbiamo trovato gli escape che facevamo per telefono su Roblox Cosa si può volere di più? Ci sono tantissimi livelli da fare Il primo è scappare da una prigione E non vedo allora di provarli ma sembrano davvero fantastici E ragazzi come va? Io sono Fereniki E io sono Stef che c'è il giochiamo a Roblox E siamo tornati su Roblox con Escape Room Ovvero come da titolo dovremo riuscire a scappare da diverse stanze e diversi livelli Esattamente, proprio quali identici al giochi che facciamo per telefono Quindi è una figata pazzesca Partiamo dalla prigione Non abbiamo idea di quanto sia difficile il gioco Però è la prima, è il primo livello Io credo che per quanto siamo allenati non avremo nessun tipo di problema Lo spero perlomeno perché non si sta mai Poi magari facciamo una figuraccia Allora, ok, ok, stiamo in prigione Abbiamo dieci minuti Non possiamo mettere pausa, non possiamo avere suggerimenti Niente di niente Dobbiamo trovare un modo di fuggire Adesso dice, il nostro tempo parte ora Ok, allora, guarda Abbiamo una bella luce Qua vedo subito Must Escape Devi scappare Pensavo fosse un indizio E invece ho trovato una roba inutile Qui non mi sembra che ci sia nulla Allora, però hai notato? Steph Steph scendi subito Scendi Steph il tempo scorre Non puoi stare in bagno mentre si scappa Mi prendo questi 30 secondi per spiegarti cosa è successo Stavo guardando in prima persona Ho fatto Ma come me l'hai diventata gialla Eh Poi ho desumato Ma lo sono chiesta anch'io Ma lo sono chiesta anch'io Ma che si arriva? Comunque ti dicevo lì nel mobiletto Vedi che manca una maniglia Quindi cosa fondamentale Cercare secondo me subito la maniglia Per riuscire ad aprirlo Ok, sì Per aprire questo mobiletto Mi piace Fuori non sembra che ci sia niente di utile Ma questa secondo me invece è utile 2 più 5 Fa 7 Local movement 9 meno 5 Fa 4 Però abbiamo un 3 per 5 E cosa sono quelli tra parentesi così? Cioè, allora Queste virgole Mi stanno dicendo che mi devo fermare all'icona Con i calcoli ogni volta Per adesso la teniamo lì Questo foglio ci ricordiamo Ok, una chiave Perfetto Ok, ok Come vedi abbiamo gli oggetti alla destra Come nei classic escape Qualcos'altro Oltre là sotto il cuscino Sotto le coperte Ok, la maniglia La maniglia Allora, noi la mettiamo qui Apriamo questo bellissimo mobiletto E c'è un'altra chiave Ok Della cella E basta con Mi ero ristituto nervato Della cella dice Ho trovato anche un altro oggetto Guarda, un bastone Ok Io provo ad andare qui Anche secondo me devi provare a uscire dalla cella Ok, allora dalla cella scappiamo facilmente Sicuramente sarà difficile scappare dalla prigione No, dobbiamo scappare esatto dalla prigione intera Ok Infatti, guarda Ok, però abbiamo un'altra chiave No Ok Ok, ci serve una chiave Noi abbiamo un bastone che ci permette di raggiungere i posti alti Quindi, secondo me, qui c'era la chiave Perfetto, l'ho presa sfruttando il bastone Ma qua sotto c'è qualcosa che è un codice Un cacciavite Ok Ok E qui cosa c'è se apriamo? Aspetta Ah, ok Ok, sono delle forme che sicuramente dobbiamo mettere Sinceramente, aspetta però, eh Ahà Parlava di rettangoli e cose così Il codice Quindi È un po' Ah Non lo so Non lo so Non è abbastanza complicato Non è molto complicato, Steph Anche perché inizia a mettermi ansia il fatto che abbiamo sette minuti per fuggire Infatti muoviti Non perderti in cianco Allora, questa non la posso aprire Ah sì, invece l'ho aperta Ok Ok, però ovviamente abbiamo bisogno Ma adesso non abbiamo il codice, giusto? Stavo guardando tutte le mattonelle e ho trovato questo punto che è premibile Però Però aspetta Non succede nulla Come? No Con cacciavite? Come l'ho detto Con la sedia? Mi sembrava strano, no? Se c'è un oggetto da utilizzare l'uso in automatico in questo gioco No, però lì, allora evidentemente non abbiamo l'oggetto che ci serve No Secondo me Ah Ok Ok Ora sì che si ragiona E qui? Allora, Fede, quadrato, cerchio, triangolo, triangolo Andiamo Ok Che bravi Più o meno, eh Ci stavamo un po' in più conto Quadrato Cerchio, triangolo, triangolo Sicura? Cerchio, sì Cerchio, triangolo, triangolo Come ho fatto a dimenticarmi? Non lo so Parlando d'altro Ok, perfetto E ci siamo presi Oh, che cos'è, Fede? Delle forbici? È una specie di pinza, sì Una pinza Ok, ok, ok Andiamo a rivedere lì dentro se c'è altro Perché ce ne siamo andati via subito Non appena abbiamo visto il codice E qui Utilizziamo la pinza Ok Fede, non vedo più nulla Qua posso aprire Oddio, si è acceso qualcosa Fede Ok Ok È andato Ah, allora Cos'è successo? Spiego io Ok, non ho capito bene Quello non era un generatore Ma era un cassetto Ok Abbiamo trovato le pinze Abbiamo staccato la corrente La porta non creava più il codice E siamo usciti Ah, ok Bellino Molto bellino Mi tocca spiegare pure Davvero bene però, eh Ci abbiamo messo 4 minuti e 46 Rimasti Ah, ok Ci sono rimasti Poi abbiamo guadagnato 50 escape coins E 375 esperienza Che ci serviranno A sbloccare altre mappe Delle upgrade Sì, perché poi le mappe più avanzate Le devi sbloccare Allora, io lo dico subito Likes a scoppio Sondaggi a scoppio Commenti a scoppio Perché credo che ci sia più di un video Fattibile per quante mappe ci sono Quindi fateci capire subito Se lo rivolete Perché io mi sto già infogando tantissimo È troppo bello fare gli escape Su robot tu stesso E ci sono pure quelli multiplayer Che quindi possiamo fare Io e fare insieme Abbiamo inciso di partire Dai single player Per diciamo Capire piano piano Sì, no, anche perché Multiplayer mi sa che ce n'è solo uno o due Poi gli altri li devi sbloccare Quindi è meglio fare Prima il single player E poi sbloccare gli altri Allora, il secondo single player Era la mappa del tesoro Sì La treasure cave Quindi la caverna del tesoro Ok, siamo pronti Vai 15 minuti Dobbiamo trovare Un'antica reliquia E scappare via Diciamo Prima che ci cada addosso tutto Sì, proprio le avventure D'Indiana Jones Esatto Dai, muoviti Che 15 minuti Ma quanti soldoni per terra Però fare Allora 1, 2, 3, 4 Ok Se premo cambia il numero O ci sta dando Un codice No, perché 1, 2, 3, 4 Non lo so Magari non abbiamo L'attrezzo necessario Sì, perché sono premibili Quindi Non è un codice Da registrarci Guarda anche lì Più Uguale 2 Ok Ok Oh mamma mia Non dirmi che dobbiamo fare un codice Tramite i simboli Per capire un numero Sarebbe incredibile Allora Ok Qualcosa da mettere Ok Questo bastone Lo prendiamo come oggetto Perfetto Fanno sempre comodo Sono una sorta di scala Guarda, guarda, guarda Uguale 1 Rettangolo Uguale 1 Uguale 1 Questa è la reliquia Che noi dobbiamo prendere 35 10 In base a dove mi muovo Vabbè Non lo so Non lo so Per ora non capisco Quadrati strani Ok Quelli saranno premibili Ok Anche qua dica E devi rimettercela dentro Perfetto Però io vorrei trovare Dove ci serve quel codice Che stiamo iniziando a trovare Qua serve una chiave Ok Triangolo uguale 4 Una leva Che premo volentieri Ok Nulla Vero? Non so Non so Sinceramente non lo so No Per ora no Mi sembra tutto ok Dopodiché Guarda comunque Qua ci sono dei simboli in terra Luna quadrata Triangolo E poi sembrava tipo Una sorta di più Qui mi sa che non riesco a salire Fere Eh ho notato Però c'è un Ok Bastava girare intorno Aspetta 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 Ok Ho trovato una sandbang Quindi una borsa di sabbia Ho capito a un buon peso Quindi magari servirà Per bilanciare qualcosa Ok 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 Guarda l'uno uguale 3 L'uno uguale 3 L'uno uguale 3 Sì Ok Ok E cosa dobbiamo fare in tutto questo? C'è un'altra leva Previ tutte le leve vai Ok Abbiamo utilizzato il bastone Per prendere questo wooden peg Ok Che dovremmo poter infilare in questo buco Proviamo Proviamo Quindi vediamo che cosa succede Ok ci sta Ok Sicuramente stiamo aggiustando queste colonne O qualcosa del genere Sì però Ho un presentimento Ovvero Che le leve Vedi che qua c'è un meccanismo Secondo me funziona Una delle due leve adesso Dato che abbiamo appunto messo L'incastro nel buco Allora anche questo puoi prendere Scusa Vedi Vedi uguale Uguale Ok Allora forse dobbiamo aspettare Ad utilizzare la leva A quando abbiamo anche Ok Vai Vai Andiamo Abbastanza complicate Sono già passati 4 minuti Sì Sì È interessante Non li hanno fatti semplice E questa cosa è positiva Allora tapiamo anche questo Ma c'è anche una leva lì dietro L'hai vista nascosta dietro la colonna Non si è aperta qua scusami Ah sì Però c'era anche la leva Nascosta dietro la colonna Ma quella l'avevamo già fatta prima Già fatta Sì 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 Perché c'era anche una Noi avevamo già dato le due leve Sistemando i buchi No ma ci sono tre leve Ha funzionato la leva E siamo andati qua Vabbè Ferre non mi interessa Allora Altrimenti non ci capiamo nulla Eh eh Vabbè Bastavano due Oh che cos'è questa cosa Ok Ok Pensavo che Avessimo fatto un bel passo avanti E invece Ok Siamo di nuovo In difficoltà Le torce non le posso prendere Altra leva C'è un'altra leva Che premiamo più che volentieri Controlla che non ce ne siano altre Nella stanza Esatto esatto No no infatti adesso controlliamo tutta la stanza Questo indovinello non mi sembra fattibile adesso Quindi lo lasciamo qua E torniamo nell'altra stanza No non ce ne sono altre A vedere sia la leva che hai visto tu Sia a vedere se questa leva che ho utilizzato ha fatto effetto Questa l'abbiamo già premuta Ok Ok Poi c'era No ma qui non c'è niente Vedi c'è questa vicino alla statua Che noi abbiamo premuto È quella dietro La stanza Sto facendo da due ore Allora forse questa si combina Quella che abbiamo appena premuto Esatto Per far succedere qualcos'altro Controllati in giro Uh sì 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 Guarda Non la vedevo Non c'era Ok Mettili tutti scuri Erano tutti scuri in quella Sicura? Sì Mi sembra troppo semplice Eh non lo so tu prova Ho fatto Ok E quindi? E quindi prova a rientrare nell'altra stanza E vedere se è cambiata qualcosa Ma ne mancheranno solo nove minuti Eh lo so Steph Non voglio far panicare Però sto iniziando a preoccuparmi Allora tu non stai proponendo nulla Ma non stai proponendo nulla Non stai proponendo niente Ma stai esitta Allora Allora Spiegami cosa si capisce Che è pure buio Cioè sono tutti schiacciati Vedi Sono tutti rientrati Mi domando se questo Tipo Segnale Segno Voglio dire qualcosa Anche noi ce lo domandiamo Però Eh ma io non vedo poi i segni Forse bisogna illuminare la stanza Però vedi che questo è diverso da tutti gli altri Dici? Sì sì E allora prova a tenerli tutti schiacciati No 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 è l'ombra È l'ombra della grata Steph Non serve a nulla Dai lasciamo perdere per ora Perché evidentemente non abbiamo la soluzione Però abbiamo rubato già la reliquia Incredibile Evidentemente sì Abbiamo messo il borsa di sabbia Al posto Nella classica cosa da film Quindi diciamo non scatta evidentemente una trappola Però Resta il fatto che non sappiamo adesso come fuggire Perché continuiamo a non capire Che codice dobbiamo utilizzare E come dobbiamo utilizzarlo Assolutamente E quindi La gemma per spostare i numeri Non lo so Forse è una fesseria Non lo so Magari funziona Tipo magnetico Che ne so Oppure la gemma qua Dato che qui diceva che serviva un altro No no Secondo me non Ok quindi la gratta per adesso non possiamo Vuol dire che ci serve un oggetto per la gratta Perché secondo me fuggiamo da lì Esatto esatto Questi numeri adesso li possiamo premere No Niente Proviamo la gemma allora nell'altra stanza Magari serve qualcosa Oppure qua magari ci fa premere qualcosa No 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 Ok mancano solo 7 minuti Questo messaggio dice che chi guarderà questa cosa dall'alto Teoricamente avrà la risposta che cerca Ok Però Sapete io sto guardando dall'alto Però non è che vedo grandi risposte Eh neanche io sinceramente Prova anche dal basso Proviamo al contrario No felice a bov Eh non lo so A bov a bov Ok Il primo a sinistra e il primo a destra Mi sembrano tutti e due schiacciati Vedi 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 E forse anche quello centrale Proviamo così dai Devi fare questa forma No ta 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 Ok Proviamo Proviamo 4 minuti e 30 Dannazione Comunque è lì la risposta Sono quei segnetti lì Qualcosa è lì Qua non so che altro c'è Non so neanche quelli 10-35 Non ho idea No lo so dai 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 Vediamo vediamo Però lì abbiamo Allora rimettili tutti i normali Pa 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 È successo qualcosa È difficile capire Aspetta Lo so Il volume ma c'è una musica epica Incredibile Ok Quasi Dovrebbe essere Così Ecco Grazie E ci abbiamo fatta È finita E quindi i numeri non servivano a nulla Probabilmente per trarre in inganno Mette pure trabocchetti Sì Che magari tu rimani lì concentrato A vederli Perdi un sacco di tempo Come ci è capitato E rischi di non finirlo Mette pure trabocchetti Bello Sì Spera che si è riusciti A usciti un bel like Questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare la link Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao